Sì, eccoci Tiziana. Eccoci. Sì, questa, ve la faccio vedere, questa è una, anzi è la via principale di Odessa, è una via completamente barricata, ma è così quasi tutta la città. Qui la gente viene e guarda questi cavalli di Frisia che servono per arrestare le avanzate quando arrivano le truppe nemiche. Questa prima era una delle strade, mi raccontavano, dove si veniva a passeggiare, la passeggiata del sabato, della domenica. Qui i negozi accanto erano chiaramente aperti, mi hanno detto c'era un buonissimo ristorante georgiano, c'erano i caffè dove si veniva a fare la colazione la domenica con la propria famiglia. Una città che come vedete non ha più quell'anima che aveva prima della guerra, prima di un mese fa, la gente non passeggia più, chi passeggia viene qui, guarda, osserva e se ne va. Aspetta Elena, questo viale è lo stesso che abbiamo nella foto lì? No, è un'altra strada? Però abbiamo delle immagini di repertorio di Odessa, tanto per farvi capire la differenza, è intuitivo, lì ci sono tutti questi, com'è che si chiamano? Cavalli di Frisia. Cavalli di Frisia, ormai siamo espertissimi, almeno Alessio lo è, i cavalli di Frisia per strada, i sacchetti di sabbia e quest'altra è l'immagine di un Odessa, come ci piacerebbe tornare a visitarla. Eccola qua, diciamo, così capite di cosa stiamo parlando, città simbolo, città meravigliosa, il cui sindaco, lo ricordiamo, ha chiesto, e ce l'ha ricordato anche l'ambasciatore, ha chiesto all'UNESCO di farla diventare patrimonio dell'umanità, in questo modo, magari favorendo in qualche modo la protezione di questa città, che oggi si presenta, come ce la racconta Elena, che si prepara, giorno dopo giorno, si prepara sempre di più all'attacco. Elena. Sì, oltretutto vi faccio vedere qui tra un cavallo di Frisia e un altro, c'è il filo spinato, sempre a protezione, le persone che vivono qui, che hanno storicamente visto Odessa, ci hanno raccontato che questa strada è stata così solamente nella Seconda Guerra Mondiale, e che quindi è un colpo al cuore vederla nuovamente barricata, nella sua anche importanza, perché ricordo che Odessa è una città storicamente straordinaria, bella, si dice che in Odessa ci siano 113 popolazioni e tutte in una città, ma è una anche delle città più importanti a livello portuale. Noi, Tiziana, ti ricordi, un mese fa eravamo collegati dal porto di Trieste, ci parlavano dell'importanza strategica per noi di Odessa, quindi fermare Odessa e la presa di Odessa significherebbe il fermo commerciale, cioè non avere più ad esempio l'olio di girasoli, significherebbe non avere la farina. Oltretutto vi do anche un'altra notizia, qui a un'ora e mezzo si combatte, si combatte a Micolaive, si resiste, Micolaive è stata liberata. Sì, lo ricordavamo prima, in qualche modo stanno lì e con le mani fermano l'avanzata, chiarissimo Elena. E mentre si combatte a Micolaive, loro continuano a seminare, continuano a coltivare i campi per non lasciare la popolazione senza i girasoli, senza l'olio di girasoli. Addirittura nel centro della città, siccome alcune zone, alcuni campi chiaramente sono occupati, hanno tolto i giardini pubblici e hanno iniziato a seminare in mezzo alla città di Micolaive. Grazie!